Grazie a tutti quanti, lo desideravo da tanti anni e sono molto felice, lo dedico a tutti sassaresi, alla mia famiglia a Modena, a tutti, grazie, proprio lo desideravo da anni e anni, dopo tanta nostalgia della mia città, proprio sono felice, felice, commossa, grazie a tutto mio sassarei, vi voglio tutti bene, magari che sogo da 157 a Modena. La signora Francesca Marras, nata a Sassare, non dico quando, è residente a Martigues in Francia dal 18 aprile del 66. Consegna il premio alla Presidente Alessandra Giudici. Grazie. Grazie a Sassare, voglio ringraziare tutti e lo dedico a mio padre che si è stato un sempre occupato dei candiglieri, è un molto attore, grazie a tutti e grazie a Sassare. Grazie. Grazie a tutti. Ma tu ti razzai con tu bambi, da sopposti con tu bambi, da sopposti con tu bambi. Viva la Repubblica, es vivila regis. Viva la Repubblica, es vivila regis. Viva nostra civiltà, Viva la Repubblica, es vivila regis. Viva la Repubblica, es vivila regis. Credo che questo sia il senso della nostra comunità, che anche nei momenti difficili come quello che stiamo attraversando, sa ritrovarsi, sa stare unita, sa affrontare le difficoltà e superarle nell'attesa di tempi migliori, che siamo sicuri arriveranno. Con queste piccole e anche banali riflessioni non mi resta che augurare a tutti voi a cent'anni e darvi appuntamento a domani alla parada. A cent'anni. Grazie. Grazie.